Disastro maresca, Gilberto fermato, Rocchi imbufalito, si va verso un lungo stop, potrebbe tornare in altra il 5 e il 12 dicembre, l'hanno ammesso pure loro! Domenica 31 ottobre ore 14, io le previsioni non le faccio mai perché sono molto scaramantico, ma vi dico una cosa, questa sera Roma-Milan si vince, la Roma questa sera batte in Milan, sarà una partita pirotecnica piena di gol, ma la Roma oggi vince! Ricordatevi queste parole, dagli Roma e dagli Mourinho! E forse sarebbe andata così se non ci fosse stato il signor Maresca, una gara indirizzata fin dai primi minuti, si è capito tutto subito! Però come dice il nostro Diago Pinto, è possibile scaricare tutte le colpe sulle direzioni arbitrali di quest'anno? Ovviamente no! La Roma gioca male, diciamocelo, reagisce solo quando va sotto nel punteggio! È possibile che per vedere un cambio di passo dobbiamo ancora vedere Cristante nei tre di difesa? Come l'anno scorso? E poi il signor Abram ha capito che il giovane difensore italiano è più scaltro e furbo di un 35enne in Inghilterra? E ora domani in conference contro il Bodo per far vedere che non siamo quelli del 6 a 1! E poi domenica tutti in Laguna! Forza Roma!